È stato un bel episodio nel nostro corso di lavoro che ci dà soddisfazione e soprattutto noi siamo lieti di alimentare questo desiderio di bellezza che è nel cuore della gente, specialmente in un momento così difficile per tutti. Uno dei nostri obiettivi principali è partecipare al lavoro del territorio, inteso come territorio, associazioni, tutto ciò che porta avanti un discorso culturale. Sono grata alla Clementina Borghi perché ci permette e ci lascia questo spazio e quindi collaboriamo molto felicemente insieme. Tutto il Sorottimist nazionale ha conoscenza di questo concorso per cui viene sottolineata l'importanza a livello nazionale anche da parte del nostro club.